Musica Rinviata alla prossima settimana ogni decisione sul potenziamento dell'ospedale Regina Margherita di Comiso. Questa mattina si è svolta la tanto attesa manifestazione organizzata dal Comitato a difesa del Nosocomio. I partecipanti, pochi a dire la verità, si sono dati appuntamento nel parcheggio di Regina Margherita e sono partiti con i propri mezzi in direzione Aspe in Piazza Egea a Ragusa. Una delegazione ha incontrato i vertici dell'azienda sanitaria. Assenta per motivi di salute il direttore generale Ettore Gilotta, la delegazione dei manifestanti, costituita dal sindaco Giuseppe Alfano, dai deputati regionali Innocenzo Leontini, Giuseppe Di Giacomo, Roberta Maduro e Razzia Ragusa e dai rappresentanti del Comitato Cittadino Spontaneo a difesa dell'ospedale, è stata ricevuta dal dottor Granata e dalla dottoressa Sigona, ai quali sono state richieste risposte precise da parte dell'ASP sui tempi della nomina dei nuovi primari dei reparti di chirurgia e medicina, presse il Regina Margherita, o almeno dei facenti funzioni, altresì tempi certi sulla riconsegna dei locali in fase di ristrutturazione degli stessi reparti. Inoltre si è richiesta chiarezza in merito al nuovo sistema operativo, anche telematico e informatico, dei reparti di laboratorio analisi e radiologia, ai quali si chiede un'operatività H24. Nessun passo indietro in merito alla richiesta di garanzia sull'operatività del pronto soccorso di Regina Margherita, compresa la dotazione di ambulanza con medico a bordo, finora annunciata ma non realizzata, sulla risistemazione delle unità semplici di otorinolaringoiatria e urologia, con l'assegnazione di posti retti e ordinari a quest'ultima unità. E ancora si è richiesta l'attivazione della mammografia digitale, la cui strumentazione è stata consegnata ma non è funzionante. È stato da ultimo richiesto di dotare di servizio TAC la struttura ospedaliera comisana. I rappresentanti cittadini aspettano adesso che la prossima settimana i fatti seguono le parole da parte dell'ASP. Per quanto riguarda la partecipazione da parte dei cittadini, come detto, è stata poca e pertanto non incisiva. Insomma, grande assente alla società civile. Non c'è quiete dopo la tempesta. In tutta la provincia si contano i danni a case, serre, aziende agricole, negozi, bar. I vigili del fuoco di Ragusa, con molte squadre impegnate in tutta la provincia, di concerto con protezione civile e forze dell'ordine, non si sono fermati un attimo dall'inizio del miniciclone che si è battuto sul territorio ibleo. Pippo Mascolino, esperto del sindaco di Vittoria per la protezione civile, dal centro operativo comunale, da dove viene monitorata la situazione a Vittoria, ma al quale arrivano informazioni da tutta la provincia di Ragusa, fa sapere che dall'ultimo bollettino meteo risulta che la situazione meteorologica sta migliorando, ma non abbassiamo la guardia. I danni, ha continuato Mascolino, nelle campagne sono ingenti. Le serre, dal randello passando per Resinè, Scicli, Vittoria e tutta la fascia trasformata, sono state rase al suolo. Per quanto riguarda la città capoluogo, il responsabile della struttura di protezione civile di Ragusa, Giuseppe Licitra, ha spiegato che stiamo passando in rassegne vari seduti scolastici per verificare i danni. Al cimitero centrale, ha detto Licitra, sono crollati i pini, la viabilità in città è in difficoltà, si registrano danni anche agli impianti di sollevamento, alla fognatura e al sistema di smaltimento. Anche a Vittoria proseguono i controlli nelle scuole comunali, che sono agibili, ha detto l'assessore alla pubblica istruzione Piero Gurrieri, ma per le quali sono necessari numerosi interventi manutentivi. Danni, inoltre, anche alle linee telefoniche in provincia. Il vento e la pioggia hanno distrutto le serre nella zona di Vittoria, Scogliti, Santa Croce, Acate e Marina di Acate. Sono date distrutte le colture di prodotti ortofrutticoli e le vigne. A Scogliti e a Vittoria ci sono anche tetti scoperchiati, sia nelle campagne che nel centro abitato. Ad Acate si sta affrontando inoltre la pericolosa esondazione del fiume di Rillo, dove sono crollate le paratie della diga. Pare che ci sia un elicottero dei vigili del fuoco che sta sorvolando la zona. Un brutto colpo per l'agricoltura, già stremato dalla pesante crisi, aggravata dal recente sciopero dei Forconi e che deve fronteggiare il crollo dei prezzi dopo l'accordo euro-marocchino. Gestione dei danni anche a Comiso e il maltempo dello scorso fine settimana ha colpito duramente anche il territorio casmeneo, uno dei comuni più danneggiati della provincia. Svariati milioni di euro che si pensa le violenti raffiche di vento e le intense piogge abbiano provocato, anche se si tratta solamente di un dato approssimativo e non solo perché la conta dei danni richiede diversi giorni prima di poter arrivare a dati definitivi, ma anche perché Comiso, a differenza di altri comuni della provincia, pare muoversi con qualche lentezza nelle post ciclone mediterraneo. Se infatti altri enti locali si sono immediatamente attivati per cercare di assistere in modo efficiente le richieste di chi ha subito maggiori danni, come ad esempio il comune di Vittoria, Comiso pare si muova a tentoni. Manca infatti al momento un modulo che il produttorio, chi abbia subito dei danni, possa compilare per denunciare i danni subiti? Il dirigente della protezione civile comunale Ingegnere Micieli ha per l'appunto affermato Abbiamo preso contatti con il Dipartimento della Protezione Civile che deve predisporre schede di segnalazione e di monitoraggio in modo da avere uniformità nelle perizie. Ma nel frattempo i cittadini non possono fare altro che attendere che questo modulo sia pronto. Forse domani, forse mercoledì, non si sa ancora. Medesimo atteggiamento a Ragusa, ma c'è da dire che il capoluogo presenta una realtà economica diversa? In parole povere a Ragusa non ci sono tutte le aziende agricole che invece ci sono a Comiso, per cui i danni da questo punto di vista sono diversi. A differenza di altri comuni che si sono subito attivati di fronte ai danni alle imprese, il sindaco Alfano, ha dichiarato il consigliere comunale del PD Fabio Fianchino, non ha ancora pensato di intervenire sulla questione. Chiediamo con forza, come PD, che venga subito attivato un tavolo tecnico per la ricognizione dei danni per poi intraprendere insieme a tutte le forze politiche un percorso a sostegno delle imprese. E nell'attesa ai cittadini non resta che rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Rimanere per quattro lunghi giorni senza luce, con conseguenze quali non potersi lavare, non poter pulire la casa, non riuscire a lavare i piatti e dover gettare tutte le provvise di cibo conservate nel frigo. È la disavventura capitata a circa 20 abitanti di Contrada Valseca, lungo l'ex strada provinciale 17 a Vittoria. Gianni Assenza, residente nella zona, ha raccontato ai nostri microfoni la sua disavventura. Solo quest'oggi, infatti, intorno alle 13.30 è stata ripristinata la corrente dall'Enel. Da venerdì, dalle due e mezza, che manca la luce. Abbiamo provato a telefonare più volte, un'impresa a parlare col numero verde. Dopo tanti peripezie l'abbiamo avuta stamattina la luce. Dopo quattro giorni abbiamo buttato un sacco di cose dal frigo. Chiederemo dei danni. Più di 25 persone, c'è anche un rifornimento che è rimasto il GPL del gas senza luce, ci sono dei bambini, c'è una signora anziana ed è malata pure che ha bisogno di corrente assidua. Voi avete anche contattato gli organi locali, qui la polizia, i vigili urbani. Loro pure hanno cercato, insomma, tramite comunicazioni, di rivolgersi loro all'Enel per voi. Sì, anche loro. I vigili urbani hanno mandato un fax, la polizia è la stessa cosa. Ieri ho litigato con uno dell'Enel e poi ho telefonato alla polizia. Mi ha detto che ci provavano pure loro ieri. Stamattina ho telefonato alla Prefettura, l'ultimo cosa che potevo fare. Quindi la Prefettura mi hanno passato la protezione civile, mi ha detto il signore della protezione civile, ma mi sembra una cosa strana. E purtroppo è capitato. Immaginatevi se cade la neve qua da noi. Ed intanto il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, ha inviato questa mattina una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, al presidente della regione siciliana e al prefetto di Ragusa per chiedere la dichiarazione dello stato di calamità naturale, misure straordinarie e urgenti aiuto economico e la moratoria per i debiti agrari. Il primo cittadino ha chiesto che vengano assunti in tempi rapidi interventi straordinarie e azioni forti a sostegno delle aziende colpite. Una moratoria dei debiti agrari con la sospensione di tutti i termini di pagamento per mutui e una proroga per tutte le scadenze agrarie, indennizi urgenti nelle stesse modalità, ha aggiunto Nicosia, con cui è stato fronteggiato il danno provocato dal batterio killer, per consentire così ai produttori e agli imprenditori danneggiati di continuare a lavorare e di non dover subire, oltre a danno, conseguenze fiscali. Così come sono state poste in essere in altre occasioni misure straordinarie a sostegno di comparti economici colpiti da calamità naturali, chiedo, ha concluso il sindaco Nicosia, che questa parte della Sicilia e le migliaia di famiglie che qui vivono e lavorano non vengano abbandonate al loro destino. Un mini ciclone all'interno del PDL che fa pandan con quello di questi giorni in provincia di Ragusa. In questo periodo le cose per il partito non sembrano andare per il verso giusto. Era stato fissato per sabato il congresso provinciale rinviato a causa del maltempo. Due candidati alla segreteria, Salvo Mallia, sostenuto dalle correnti del deputato nazionale Nino Minardo e del deputato regionale Innocenzo Leontini, e l'outsider Paolo Santoro. Sul vincitore sembrano non esserci dubbi, ma i problemi per il PDL riguardano altri aspetti. E non tanto per le dimissioni annunciate dai consiglieri Silvio Galizio e Salvo Mandarà, ma quanto per i rapporti con l'associazione Territorio, sempre più autonoma e distaccata dal partito. I sindaci di Ragusa e Santa Croce Camerina, nello di Pasquale Lucio Schemmeri, avevano dichiarato che non avrebbero partecipato ai lavori del congresso e pare che il primo cittadino del capoluogo si sia rifiutato di entrare a far parte del direttivo provinciale. Ma non è finita qui. Territorio, infatti, in occasione delle elezioni amministrative, sta presentando propri candidati nei vari comuni e a Santa Croce ha deciso di sostenere il candidato dell'Udc Giovanni Barone, un'alleanza che potrebbe essere un segnale di quello, che potrebbe accadere anche a Ragusa fra qualche mese. Secondo alcune voci, infatti, l'Udc potrebbe caldeggiare la candidatura di Di Pasquale alle elezioni regionali, mentre Territorio potrebbe sostenere Franco Antoci come primo cittadino del capoluogo. Un patto di ferro che, di fatto, metterebbe fuori gioco il vice sindaco Giovanni Cosentini, che non ha mai nascosto le proprie ambizioni per diventare l'erede di Di Pasquale, entrando persino insieme ai consiglieri e ad altri esponenti del PID all'interno del movimento Territorio, convinto di poter contare in futuro sul sostegno dell'attuale primo cittadino. Ma tornando al PDL, il partito a Ragusa e soprattutto in consiglio comunale è messo in un angolo stordito come un pugile che ha preso pugni da tutte le parti e che non ha più la forza e il coraggio di reagire. Ovvero, fuori dalla metafora, avere il coraggio di togliere il proprio sostegno ad un sindaco che sta mettendo in crisi il partito in tutte le realtà provinciali. L'Udc comisano ancora senza certezze. Dopo l'approvazione dell'aumento dei tributi locali, sancita dai consiglieri che sostengono il sindaco Giuseppe Alfano, il partito dello scudo crociato si è spaccato. Il consigliere Giuseppe Di Giacomo è uscito dall'aula, mentre il collega Alessandro Guestella ha votato a favore. Ieri era previsto un vertice della direzione provinciale del partito che, tra le altre cose, doveva discutere anche della questione comisana. Ma l'incontro non si è svolto a causa dell'assenza per impegni personali del segretario provinciale Pinuccio Lavima. Proprio Lavima ha chiarito che sulla delibera relativa all'innalzamento delle tasse, la posizione del partito era l'astenzione o l'uscita fuori dall'aula. Dunque, se il consigliere Di Giacomo ha seguito la linea ufficiale, il consigliere Guestella ha agito diversamente, sangendo di fatto una spaccatura che appare oramai insenabile. A questo proposito, Lavima ha annunciato che la direzione si riunirà nei prossimi giorni e che in quell'occasione Guestella dovrà fornire giustificazioni valide per spiegare il suo comportamento. Non è escluso comunque che l'Udc decida di uscire fuori dalla Giunta e di togliere il sostegno ad Alfano, con l'obiettivo di presentarsi agli elettori come una forza di rinnovamento rispetto alla gestione di Alfano. Ma dopo quattro anni trascorsi all'interno dell'amministrazione, l'opera di redenzione appare alquanto difficile e la domanda che in queste ore molti si fanno è che cosa farà l'Udc da grande? Noi rispondiamo, intanto, nell'attesa degli eventi, prende tempo e aspetta per valutare le migliori opportunità per restare al governo della città, magari strizzando l'occhiolino al centro-sinistra. Ed intanto, mentre appare certo che l'assessore Cassiba resterà fedele al sindaco e attaccato alla poltrona fino alla fine del mandato elettorale, dell'altro assessore in quoto dc Salvo Schirmo, che si occupa di un settore nevralgico come quello dei servizi sociali, non si hanno da tempo cenni di vita e per sapere che al fine abbia fatto bisognerebbe chiedere informazioni alla giornalista Federica Sciarelli e alla trasmissione chi l'ha visto. Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato di turno della Procura della Repubblica, Claudia Maone, a stabilire le cause della morte di Irene Iozzia, la tredicenne vittoriese deceduta ieri pomeriggio all'ospedale Guzzardi di Vittoria dopo un malore. La piccola Irene frequentava la terza I della scuola media Vittoria Colonna. Ieri mattina, mentre faceva la corsetta di riscaldamento all'inizio dell'ora di educazione fisica, ha perso i sensi e si è accasciata al suolo. Compagni di classe e professore hanno cercato di rianimarla, ma Irene non si è più ripresa. Trasportata ad urgenza al Guzzardi, è morta a pronto soccorso del nosocomio vittoriese. Per la dirigente scolastica Emma Barrera, questo è il momento del dolore, della sofferenza e del silenzio. Irene era un'alunna modello, ha raccontato la preside, impegnata e brava nello studio. Una giovane che dava sempre il massimo e che cercava continuamente di migliorarsi, protetta dall'amore di una famiglia sana. Il padre di Irene, Pietro Iozzia, ha aggiunto la preside Barrera, è docente di tecnologia qui a scuola, un professionista serio ed impegnato nel lavoro. Pure la madre di Irene, Lisa Bordonaro, è insegnante ed anche la zia della piccola e collega del padre alla Vittoria Colonna, dove insegna matematica. L'evento ha sconvolto l'intera città di Vittoria, oltre che i genitori, i parenti e gli amici di Irene. Su Facebook sono in tanti a commentare con parole odolorate la tragedia. Il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, ha dichiarato di apprendere con infinita tristezza ed essere profondamente addolorato per la prematura scomparsa della giovanissima alunna. È un evento, ha aggiunto, che ci colpisce e ci lascia scossi nel profondo, ha continuato il sindaco, ed il dolore che provo come genitore, come uomo e come istituzione non lascia spazio a parole. Non è quindi tempo di polemica, ha aggiunto il primo cittadino in merito alla polemica sull'unica ambulanza dell'ospedale sollevata dopo la morte della piccola Irene. Successivamente, in tempi e nei modi opportuni, evidenzieremo la necessità che la nostra città, concluso Nicosia, non sia dotata di una sola ambulanza, per giunta non medicalizzata. Gli uomini del commissariato di polizia di Vittoria, che hanno ricevuto la delega di indagine dalla procura, hanno ascoltato gli insegnanti, la zia professoressa, la compagnetta di banco di Irene e i compagni di classe presenti durante il malore, gli operatori del 118 e i medici del pronto soccorso, oltre ad aver acquisito la documentazione ospedaliera. Non all'aumento indiscriminato delle tasse per i cittadini comisani, i provvedimenti presentati dall'amministrazione comunale, votati favorevolmente in consiglio comunale dai consiglieri che sostengono il primo cittadino, hanno sancito di fatto l'aumento dei tributi locali. Una scelta che però non tiene conto delle fasce reddituali, e che dunque andrà a colpire i citi più deboli, anziani e famiglie numerose. Eppure, due giorni prima del consiglio comunale, si erano riuniti i capi gruppo, insieme all'assessore al bilancio di Traveni, e al sindaco Alfano per predisporre un piano di rientro che non puntasse solo sull'aumento delle tasse. Ma ancora una volta l'amministrazione ha preferito tirare diritto per la propria strada, non accogliendo le istanze delle forze di opposizione che, lo ricordiamo, si sono presentate in aula a ranghi ridotti per permettere l'approvazione dell'atto da parte dell'ex maggioranza e per evitare il possibile scioglimento del civico consesso. E a distanza di una settimana sono arrivate le reazioni del mondo politico. Per il PD l'ente poteva applicare, secondo le proprie competenze e nei limiti stabiliti dalla legge, eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti. Poteva e doveva ridurre al massimo per le famiglie numerose, per i mononuclei familiari pensionati al minimo. Doveva prevedere fasce di esenzione per le famiglie comportatori di handicap, per le nuove imprese giovanili, per le attività produttive in documentate difficoltà e perché assume dei lavoratori. Ed ancora, prosegue il segretario cittadino Gigi Bellassai, anziché aspettare in ermi i tre commissari liquidatori, è necessario attivare subito i tagli della spesa e della politica, tagliando tutte le consulenze, tagliando le indennità di sindaco e assessori, chiudendo in garage le auto blu, bloccando i viaggi e viaggetti e le spese di rappresentanza. Anche Vittoria parteciperà alla diciassettesima giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime di Mafia, organizzata dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico, che si svolgerà a Genova sabato prossimo. Alla manifestazione, presentata ieri pomeriggio a Palazzo Iacono, saranno presenti i familiari delle vittime di mafia e di tanti giovani che, partendo in pullman alla volta del capoluogo Ligure, prenderanno parte all'evento. Per il sindaco Giuseppe Nicosia, Vittoria purtroppo, con le sue molte vittime, ha dato un contributo di sangue a questa manifestazione. Sia una giornata per noi molto importante. Purtroppo Vittoria ha pagato con molte vittime il proprio contributo di sangue a questa manifestazione. è importante però che ci siano molti familiari di vittime che partecipino e che ci siano la cosa bella moltissimi giovani che, nonostante la manifestazione quest'anno si svolga a Genova, come due anni fa a Milano e in altre parti d'Italia, ritengono di voler partecipare. Nella com'amministrazione comunale non soltanto sosteniamo l'iniziativa a livello nazionale, con Libera e con Avviso Pubblico, ma siamo felici di patrocinare e sostenere anche la partecipazione è loro perché è bello vedere che ci sono tanti giovani impegnati di Vittoria che si muovono e vogliono manifestare contro la criminalità e a favore di Libera e delle vittime della mafia. Molti giovani vittoriesi che partiranno alla volta di Genova per dare il loro contributo alla buona riuscita della manifestazione e per stare vicino alle famiglie delle vittime. Per noi è una giornata molto importante perché vogliamo renderci partecipi a fianco dei familiari, delle vittime per risaltare il ricordo di questi martiri e di queste vittime di mafia e quindi per ribadire che la Sicilia è contro la mafia e contro queste organizzazioni criminali e quindi a favore di tutti i cittadini. A liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa oggi si è parlato di legalità. Il progetto dal titolo eloquente e legale in Sicilia ha previsto l'incontro degli studenti con la famiglia Manca per portare testimonianza della drammatica storia di Attilio Manca un eccellente chirurgo siciliano trovato morto nella propria casa di Viterbo il 12 febbraio del 2004. Il giovane chirurgo si pensa sia stato ucciso dalla mafia perché aveva preso parte all'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il boss allora latitante Bernardo Provenzano a Marsiglia. Secondo infatti le dichiarazioni di un pentito Francesco Pastoia poi suicidatosi il medico siciliano sarebbe stato ucciso per volere del boss che voleva eliminare ogni sua traccia del passaggio a Marsiglia ma la magistratura ancora deve pronunciarsi in merito mentre la tesi che si vuole fare passare è che il giovane chirurgo sia morto per un overdose di eroina troppi però gli indizi che fanno pensare ad altro a partire dal fatto che la dose sarebbe stata iniettata con una siringa sul braccio sinistro proprio lui che era un mancino ed è per fare luce su questi lati oscuri per tenere alta l'attenzione che la famiglia di Attilio Manca oggi ha incontrato gli studenti ragusani siamo qui per un duplice ordine di motivi il primo è quello di far conoscere far conoscere determinate vicende ai ragazzi ai giovani è importante importante perché i giovani rappresentano il nostro futuro possono cambiare determinate situazioni incresciose che sono venute nell'ultimo ventennio qui in Italia e la vicenda di Attilio è una di queste soprattutto per tenere anche alta la memoria di Attilio la storia di Attilio è stata raccolta nel libro Le Vene Violate il cui autore il professore Luciano Armeli oggi era presente all'incontro il libro nasce come contributo di solidarietà rinnovata ad una famiglia che da anni come tante famiglie aspettano giustizia per quella che è stata e che è una storia di cui diciamo il paradosso è all'ordine del giorno e il libro tocca sia gli aspetti umani di questo giovane urologo che già alla solità di 34 anni era un illuminare della scienza medica e che ha fatto la fine di un suicidato a Viterbo dove molti elementi fanno pensare che suicidato non è e quindi diciamo il libro propone di rinnovare questa attenzione a Viterbo a Viterbo a Viterbo a Viterbo Grazie.